È il momento di pensare alla terza e alla quarta età, come con la proposta di una fondazione di terzo settore, no profit e pubblica, che affianchi il comune e integri le tematiche sociali, pensando all'inverno demografico e all'aumento dei non autosufficienti. Questo sarà uno dei punti cruciali del programma di Gianni Zen e della sua lista. La proposta che facciamo è quella di una fondazione intitolata San Bassiano, che affianchi l'amministrazione comunale, perché la tempesta perfetta che sta arrivando sulla terza e quarta età, i dati demografici ci dicono che dobbiamo porsi sul serio il tema della quarta età, della non autosufficienta in particolare e delle solitudini. Quindi il fatto è che comunque dobbiamo offrire un supporto all'amministrazione comunale, in questo caso una fondazione in capo all'amministrazione comunale, perché queste realtà vengano gestite secondo una logica no profit. E parlando di terza età e di sostegno agli anziani, la questione case di riposo e la loro gestione diventano temi centrali. Le case di riposo e tutto il tema degli anziani autosufficienti e non autosufficienti devono essere la priorità per quanto riguarda un'amministrazione comunale, quindi devono essere pubbliche e quindi no profit, nel senso che non possono essere in qualche modo strumento per un qualche investimento invece legato alle aziende profit. Ma è il momento, pensa anche ai più piccoli, rilanciando una proposta. Bassano debba rilanciare, recuperare il progetto originario della città di ragazzi, un evento che è sempre stato molto importante come occasione di democrazia, di gioco per i bambini, per i ragazzi. E quindi noi crediamo che il Comune debba superare quelli che sono gli ostacoli al recupero di questa manifestazione. Grazie.